Mistero Eterno, è un libro per chi vuole avvicinarsi alla crescita personale e spirituale. In questo libro si parla di universo e di tanto altro. C'è scritto anche dei sei concetti entità. I quali sono Spirito, Materia, Spazio, Tempo, Nascita, Morte. Sono spiegati bene, facili da capire, e tante altre cose spiegate bene. È un prodotto primer, e chi è primer ha la consegna senza costi aggiuntivi. Vi consiglio questo libro. Vi lascio in descrizione video, il link affiliato Amazon.